Ora lavoriamo stando qua tutta la giornata per la riuscita del presidio, nel frattempo faremo di tutto anche per far sapere al resto del mondo che siamo in lotta e la lotta continua, anche perché nel difendere i vostri lavoro difendiamo una scuola pubblica che non solo la smantengono, la privatizzano, tondono la funzionalità alla scuola, la scuola pubblica è una risorsa comune della collettività, non è un problema privato e privatistico di un ministro, è un problema della collettività, noi non accettiamo che sia sviluppata, nessuna scuola privata può svolgere la funzione che svolge la scuola pubblica che per sua natura è pluralista, è incompatibile la scuola privata di intendenza con il nostro sistema politico-economico, a nostro parere è assolutamente incompatibile, quindi va tenuta la massima opposizione a questo piano di smantellamento che ha come vittime i pregati, ma ha come vittime gli studenti, ha come vittime i nostri figli per il loro futuro, ha come vittime l'intera comunità, ha come vittime i docenti che stanno andando in massa in esupero. La lezione è finita, allora in base. Chi è il professore della prossima ora? Grazie a tutti! Grazie.